E' stato riaperto al traffico ieri pomeriggio con una quarantina di giorni di anticipo rispetto alla data di conclusione dei lavori fissata per fine luglio, il ponte sul fiume Alento a Francavilla al Mare, chiuso a fine marzo per i lavori di restyling e di abbiamento dei marciapiedi. Un ponte fondamentale per la viabilità del centro città in una posizione strategica perché sito sulla Statale 16 nei pressi delle gallerie della variante Anas che si collega a Pescara. L'opera, dal costo di 350 mila euro, consentirà ai pedoni di attraversare il fiume in sicurezza. Questo ponte prima non aveva praticamente l'area pedonale, i marciapiedi, quindi le persone per attraversarlo dovevano camminare al ridosso della carreggiata creando un notevole pericolo per l'incolumità. Era poco illuminato e quindi sono stati creati, è stato allargato il ponte, sono stati creati due comodi marciapiedi da due metri l'uno circa, è stata rinnovata completamente l'illuminazione, abbiamo inserito dei nuovi pali con un'illuminazione a led ed ecco che è stato reso più sicuro. Infatti questo è un progetto a piedi sicuri finanziato dalla Regione Abruzzo che serve a eliminare quelle zone pericolose per i pedoni nella città.